io ho dato la nascita della biotrans energetica in un lontano luglio del 1982 il giorno prima della finale del campionato mondiale ero arrivato in brasile da una settimana mai sognato di andare in brasile sono finito in brasile perché mia moglie era brasiliana avevamo avuto la figlia siamo andati in brasilia dei suoceri quindi il brasile per me era assolutamente qualche cosa di samba carnevale macumba non avevo nessun desiderio del brasil dico visto che sono qua andiamo a conoscere questi riti della macumba e quindi sono andato alla cerimonia al mattino mi sono svegliato con 40 di febbre il mio cognato mi dice sì perché tu sei un sensitivo eccetera per quello dico ma basta delle stupidaggini insomma vado in questo posto molto umile molto povero capanna insomma periferia e vedo tutte queste persone fondamentalmente di colore che suonano i tamburi fanno fumano le danze ci sono questi santi cattolici mischiati a figure folcloriche nelle pareti insomma il mal di testa aumenta 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 finché a un certo punto e mi dico che ci faccio qui ma cosa sono dovuto fare le solite classiche cose finché la persona che sta alla sacerdotessa diciamo mi chiama in mezzo e incomincia a consiglio a fumarmi addosso a fare delle dei movimenti e io incomincio a tremare a perdere le forze a cadere e cado a no e giudicavo tutti quanti dicevo ma cosa ci fa guarda questa gente qua insomma ero più ero completamente nel giudizio nella mente o a cado sento da lontano una voce che mi dice alzati adesso aveva il tuo angelo sei dei nostri insomma cose del genere mi rialzo completamente leggero completamente sembrato guardo le persone che prima vedevo in un'ottica giudicante e le vedo come fratelli e sorelle quel senso di comunione di compassione di fratellanza che avevo mai provato in vita mia perché è dato la nascita del brutale di quel giorno lì perché è stata forse la prima volta in vita mia io venivo dal piano 68 da comunista combattente e medico classico per la prima volta in vita mia sono sceso dalla testa al cuore ho potuto sentire cosa volesse dire essere nel cuore guardare con gli occhi del cuore quindi se noi dovessimo dire che cos'è questa di ottenzione energetica è un modello psicoterapeutico che cerca di favorire nelle persone la discesa dalla mente al cuore però uno potrebbe dire sì facile certo il cuore se uno se voi pensate al cuore cosa pensate sì essere buoni volere bene amare ma non è così l'essere nel cuore è fare del due l'uno e è trascendere la divisione tra mente e cuore trascendere il dualismo e allora poco poco mi sono accorto che la nostra società poi dopo l'ho letto anche nei libri della tradizione delle filosofie il vedanta vuol dire la dvaita vedanta vuol dire non due il tau vuol dire il complementare degli opposti la fisica quantistica scopre che onde particella sono la stessa quindi questo non due questo superamento del dualismo come malattia originaria della nostra società e superamento del dualismo nel cuore è il punto diciamo così è il dato epistemologico di base della metodologia biotransenergetica da quel giorno in poi le cose mi sono successe cioè io non ho mai pensato adesso crea una metodologia psicoterapeutica quello che sapevo è che quello che avevo fatto finora non mi soddisfaceva io ero medico avevo già fatto agopuntura omeopatia avevo fatto un training in bioenergetica classica quella di reich mancava qualcosa questa esperienza mi ha fatto sentire che cosa mancasse la connessione che poi in psicologia possiamo chiamarla e la psicologia tra personale la chiama la connessione con sé per cui da allora io ho incominciato a ricevere poco a poco attraverso attraverso intuizioni attraverso mappe e modelli che si sono costruite attraverso pratiche qualche cosa che poi nel tempo ha incominciato a diventare un modello strutturato il primo training di potenza energetica nell'abbiamo fatto nel 84 io con un amico brasiliano che faceva gestate verso perché non facciamo un training va bene ok chiamiamolo di bio trans energetica e mi ricordo che erano appunto lontano 84 abbiamo messo un trafiletto su risa psicosomatica allora lungo così ci sono scritte 21 persone un training quadriennale di bio trans energetica nel 84 che nessuno sa cosa fosse 21 persone e quindi da lì è partito da quel training è stato un altro e poi un altro poi è nato la storia del counselor e poi dopo degli allievi che hanno fatto la formazione mi hanno chiesto di fare una richiesta al ministero per il riconoscimento l'iter di riconoscimento della scuola di psicoterapia al ministero che si è concluso nel 2002 con il riconoscimento della scuola psicoterapia come una scuola tra quelle che lasciano i titoli di psicoterapeuta medici e psicologi su un modello che ho di sana pianta costruito che è appunto questa bio trans energetica io non credo che sia interessante adesso che vi dica che cos'è questa bio trans energetica ma sto cercando di trasmettere di un cuore il processo come è avvenuto quella questa faccia veramente al cuore quella comprensione che siamo tutti se viviamo separati viviamo separati dal nostro se crediamo viviamo separati il soggetto e l'oggetto il corpo e la mente com'è possibile ancora nel 2020 credere che il corpo e la mente siamo separati e peraltro questo ormai è stradimostrato da qualsiasi ricerca psiconeuroendocchio monologica psicosomatica cioè è evidente in tutti i modi che corpo e mente sono unità però ancora la nostra società la nostra scienza si comporta come corpo e mente forse separati e allora la bio trans energetica vuole cercare di offrire un modello psicoterapeutico comunque di approccio all'essere umano che consigli l'individuo nella sua unità nella sua integralità io non parlo di olismo perché parlavamo di origine l'ottantadue la prima volta e le persone mi dicevano se io facevo l'olio perché nessuno ne sapeva niente di olismo adesso sembra che tutti siano listi però olismo non vuol dire mettere le cose insieme vuole dire avere uno sguardo unitario per avere uno sguardo unitario devi andare oltre la mente cosa vuol dire oltre la mente oltre la mente duale cioè oltre la ragione questo simulacro che noi abbiamo messo sull'altare se voi pensate la nostra società il nostro pensiero scientifico il pensiero accademico considera la razionalità come la il pensiero critico della della ragione come il la massima espressione dell'essere umano allora senza nulla togliere al brodo della sanità ma la razionalità non può comprendere l'unità perché di suo la ragione la razionalità funziona per esclusione è un processo analitico lungo lo scorrere del tempo che coglie per differenze mentre l'essere umano è un essere unitario che ha queste componenti anche cos'è in realtà l'olismo è il tutto è di più della somma delle parti e questo di più che cos'è cos'è questo di più che c'è tra noi adesso io sto parlando voi state ascoltando ma anche un campo qualche cosa che consente la comprensione che cos'è che cos'è questa componente unitaria che più della somma delle parti non lo comprendiamo con la ragione non lo comprende il metodo scientifico classico bisogna comprendere attraverso uno sguardo unitario e allora la vita di ottenzione energetica è un modello per cercare di raggiungere quella condizione unità dell'essere attraverso la quale tu agici su te stesse sull'altro con uno sguardo unitario interconnesso sguardo unitario cosa fa io vi ho citato il campo vi ho citato quella parte ineffabile che va oltre la somma delle parti quella parte lì alcuni la potrebbero chiamare la spiritualità o la coscienza che cosa fa la nostra società della spiritualità e della coscienza non la capisce non la comprende o la relega le chiese ma la spiritualità è l'essenza dell'essere umano è quell'insieme è il profumo del fiore è l'essenza e potremmo dire quindi è l'emanazione del nostro sé ma di ottenzione che cerca di considerare l'essere umano come un sé e di interagire in un'ottica dinamica interconnessa per favorire questa famosa realizzazione del sé cioè questo diventare chi siamo il sé può essere anche visto come il seme della ghianda la ghianda nella ghianda c'è già la quercia giusto e se è vero che noi siamo se quindi ghiande che destinati a diventare quercia qual è l'atteggiamento giusto terapeutico per favorire che la ghianda diventi quercia quella di fare obiettivi quella di fare protocolli quella di propogli cosa fare o quella di creare le condizioni perché la ghianda diventi quercia il progetto è già dentro nella ghianda il progetto che siamo e già nel nostro sé siamo già realizzati prima di partire allora la questione è come fare ad allinearci al nostro sé o vera natura come fare a o psiche come fare a rispettare la legge del due per cui si fa uno volette come fare rispettare e favorire che la nostra ghianda diventi quell'albero che siamo questo anche cerca di farà di piedi per questo che suggerisce uno sguardo dinamico interconnesso non uno sguardo che trascende lo sguardo razionale che trascende protocolli strategie obiettivi risolvere i problemi ma tu non risolvi come dice einstein non è possibile risolvere il problema con la stessa mente che l'ha creato devi andare oltre per risolvere il problema cioè deve andare nel luogo dove vedi la soluzione questo luogo dove vedi la soluzione è un altrove di coscienza quindi la bte lavora con gli stati di coscienza cerca di insegnarti come attingere uno stato di coscienza più ampio che trascende e includa razionale e quali sottostanti quindi l'istintivo il mitologico il magico che acceda a questa dimensione più ampia chiamiamola unitiva o attiva della consapevolezza per la quale riesci a cogliere la sua vera natura e a rispettarla e questo è un po la linea ecco quello che ci hai che ci hai spesso questa presentazione che che hai fatto adesso mi ha ricordato che seguendoti in diversi momenti dei corsi e delle 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 momenti di presentazione ho pensato che effettivamente diciamo l'umano trova se stesso nel momento della nascita quando non ancora è imbastito la sua struttura troppo razionale nel momento della morte quando ha capito tutto e secondo me il tema che tu hai messo proprio nero su bianco e insegni è il modo per non arrivare a quell'estremo che ho detto ma ma per poco rendersi conto della dell'attività che sia leggo leggo una schemino sulle matrici psicodinamiche dove ci sono i vari livelli io sono io vedo mi esprimo amo posso sento esisto e sono messi in relazione degli ordini della coscienza e questo è è un po un punto di partenza per capire quello che tu insegni sì questo è un aspetto più tecnico scusa cercavo di non entrare in aspetti più tecnici però questo qui è già un aspetto tecnico per esempio uno potrebbe dire va bene ma scusi ma se allora non ci occupi dei problemi non fai la diagnosi come fai noi leggiamo i processi il processo c'è la relazione l'esperienza umana un processo e ovviamente nei processi però noi possiamo perdere c'è necessario riconoscere delle strutture dei processi per sapere dove siamo come dire se tu stai andando a roma è importante che tu veda il cartello piacenza bologna e sai che sei a bologna e dovrai arrivare a roma questa mappa che tu hai citato è una delle mappe della realtà che dice il percorso quella ghianda la che deve diventare questa sviluppa lungo fasi di sviluppo potremmo chiamare una psicodinamica evolutiva seconda fase di sviluppo e l'essere umano può essere identificato magari a queste fasi di gruppo rimane fissato un po come diceva freud fissazione orale fissazione anale se tu rimani fissato a una fase non evolvi perché questo connessione con il sé può essere bello da dirsi ma se tu hai vissuto esperienze traumatiche se tu hai una vita difficile la tua storia personale tende a fissarti a farti difendere e quindi a separarti da questo sé questo è il lavoro sì perché lo chiamiamo è psicoterapeutico perché vuol dire pulire dalla storia personale per consentire questa ghianda di diventare la quercia e tu mi hai citato queste sette matrici che noi chiamiamo i sette dualismi il primo livello è vivo muoio se tu hai poca energia o se tu hai vissuto dei traumi mi pensiamo alla nascita un bambino che nasce col forcipe o che sta per soffocare durante il parto pensiamo al trauma di quel tipo di quel tipolino è un trauma vivo muoio e quindi una struttura la sua personalità sopra quel sé che sarebbe fatto per diventare quello che è si struttura una difesa vivo muoio tenderà quindi a ripetere a vivere la vita come minaccia di vita di morte sarà molto limitato nelle sue scelte di vita perché tutte qualche cosa che minaccia se la persona riesce a superare questa prima fase affermando io esisto io ho la forza per esistere per farcela sopravvivere accedono a una dimensione più ampia che quella piacere dolore andrà verso il piacere o rifugierà dal dolore pensiamo alla nostra vita e a quanto la società sia in gran parte ferma a questo livello l'egoismo l'edonismo il successo è tutto rifuggo il dolore e cerco il piacere è molto egoistico ma funziona ti può far star bene finché dura se vai avanti nell'evoluzione ti accorgi che puoi affermare a io sento io sono in grado di sentire sia il piacere che il dolore e di affrontarli perché c'è qualche cosa di oltre che cos'è il poterzo livello poter io posso non posso il potere personale io riesco ad affermarmi nella vita io posso trovare il mio posto nel mondo io posso affermare le mie qualità le mie risorse posso riconoscere chi sono e a quel punto il dualismo nella nostra società è vinco perdo pensiamo alla società alla competizione sfrenata al bisogno di successo bisogno di denaro al potere no se ho potere valgo se non potere non valgo quanti ci guardano con questo sguardo quanto nei politici negli ovunque c'è questa cosa qua la ricerca del potere che è un'altra gabbia molto più libera del piacere del sopravvivere ma è sempre una gabbia più difficile da riconoscere tanto che le persone vivono in gran parte guidate dalla sete di potere come diceva il buon niccio se noi ci accorgiamo che anche il potere una gabbia e affermiamo a io posso ma io posso anche andare oltre arrivare al cuore l'amore e allora il dualismo qui è amo o odio cioè riesco ad amare le persone oppure sono preda del risentimento io vorrei amare ma sono stato tradito e se mi apro ho paura di essere ferito di nuovo io vorrei amare ma io ti amo se tu mi vuoi bene senza fare nomi pensiamo a berlusconi io faccio tutto il bene del mondo se tu riconosci la mia superiorità se tu sei stai nella mia corte io elargisco beni e doni questa è la classica persona che cronicizzata nella nel narcisismo io ti amo e ti do tutto quello che vuoi ma tu devi riconoscere il mio potere la mia superiorità l'amore vero quell'amore di condivisione di compassione di benevolenza per l'altro è una grande sfida e tutti noi siamo qua nella nostra società potremmo dire che nella migliore delle ipotesi siamo in questo nostro conflitto tra amore e potere se riusciamo a superare a farci guidare dall'amore ecco che arriviamo ai talenti a mi esprimo posso esprimere la potenza tutta la creatività estrema che ho tutta la mia potenzialità oppure mi trattengo oso mostrarmi per quello che sono oso credere nel mio valore oppure temo di essere malinteso di via di seguito quando io affermo io mi esprimo accedo a un livello superiore ancora che è giudizio osservazione io posso arrivare ad avere lo sguardo puro come vi dicevo nell'esperienza del brasile a vedere te come anima come essere eterno come fratello sorella noi oggi siamo qui per un pretesto carlo mi ha invitato a fare una chiacchierata con voi e questo è il livello diciamo che si è ordinario del giudizio ma se io guardo con occhi chiari io vedo che siamo fratelli e sorelle in viaggio che quest'oggi ci sono incontrati qua a condividere un pezzo di esistenza se io guardo con questo sguardo capisci che quello che stiamo facendo acquisto un valore ulteriore che ma questo è un sacro cosa dice cristo la ovunque vi riunirete nome mio io ci sarò e che cos'è questo nome mio io ci sarò il nome dell'unità il nome del 6 nome della coscienza che attraverso tutti quanti noi quindi lo sguardo unico dell'osservazione non giudicante ci consente di vedere l'altro come parte come fratello della storia come parte di tutti quanti noi per arrivare all'ultimo che io sono io sono tu sei quando io affermo io sono e quando io accetto che tu affermi tu sei passiamo dal livello dell'esistenza al livello dell'essenza i nostri problemi esistenziali sono vissuti da un essere che è eterno cosa dice tellare dei sardegni non siamo esseri umani che hanno uno spirito ma siamo esseri spirituali e sono nella materia questo cogliere l'essenzialità di ciascuno è questo settimo livello quindi potremmo anche dire che quindi il modello delle botanze che ci aiuta a compiere questo viaggio evolutivo attraverso questi sette dualismi quindi legge i processi viventi l'esperienza secondo delle mappe questa mappa settenaria che hai citato carlo è una delle mappe che ci aiutano ad accompagnare le persone nel loro processo evolutivo e sapere dove sono perché poi questi due lì grazie scusami questi dualismi sono collegati sono nell'organismo sono integrali il potere sarà nella pancia nello stomaco e quindi io potrò collegare i disturbi dello stomaco il pancreas il fegato la rabbia bloccata nel fegato con un blocco dell'espressione proprio potere personale la tiroide quante donne di questi tempi hanno il problema di tiroide l'espressione di sé si parla delle quote rosa si parla dell'espressione di sé il superamento creativo di dire eccomi qua che esisto e poi c'è il problema della tiroide no ci sono anche questi collegamenti perché abbiamo detto che il corpo mente uno e grazie di questa introduzione volevo che applaudono diverse persone volevo adesso dare la parola a chiunque voglia parlare e quindi iniziamo a quelli che da quelli che vedo elencati se vogliono parlare possono dire o fare una domanda o dire un commento hai citato de chardin giovanni saldi vuoi dire qualcosa mi fa piacere questa citazione di tiara de chardin perché io sono un lettore di tiara de chardin proprio per questa visione veramente globale proprio che ha del canti non solo dell'uomo ma anche del cosmo quindi questa relazione non solo fra fra noi ma anche fra noi fra l'umanità e il cosmo e poi questo questo senso dell'evoluzione che si che che è nel cosmo ma che in noi quindi questa visione veramente olistica ma non nel senso banale della parola mi ha sempre molto affascinato eccomi volevo solo dire questo io come vi ho detto volevo fare una cosa un po più easy ma mi date degli spunti molto invece come dire corposi hai citato questo sguardo la filogenesi e l'ontogenesi esattamente individuale l'evoluzione collettiva io vi ho citato la mappa di bt e dei sette dualismi ma questi sette dualismi per quanto riguarda la l'ontogenesi sono collegati filogeneticamente all'evoluzione degli stati di coscienza e agli stadi di pensiero pensiamo vi ho citato il primo dualismo vivo muoio è collegato a uno stadio di pensiero e quindi di coscienza cosiddetto arcaico pensiamo all'umanità l'umanità ha vissuto adesso hanno scoperto che l'essere umano i primi esseri umani tanti scoperti a 100 mila anni fa ma a 300 mila anni fa pensiamo a questi 300 mila anni prima della nascita della civiltà cosa abbiamo fatto come viveva l'uomo come pensava si tende a dire che fosse un pensiero arcaico bozza bozzi di pensiero ci sono c'è un libro straordinario che il cacciatore celeste di calasso che racconta con citazioni antropologiche come l'uomo ha cominciato a riconoscersi dell'animale attraverso il giavellotto giavellotto e ferita erano i segni dell'esistenza umana individuale attraverso il giavellotto io ti tocco e quindi so che non sono te e attraverso la ferita io sento che ci sono questo pensiero arcaico filogeneticamente che corrisponde a bloccati al suo vivo muoio il passo successivo è il pensiero magico per millenni l'umanità ha vissuto nel pensiero magico non è inutile citare milioni di esempi sul pensiero magico i sacrifici umani piuttosto che le danze alla luna perché piovesse e via di seguito pensiero magico ha dominato l'umanità per millenni poi c'è stato un salto nel pensiero mitologico la tribù il clan pensiero mitologico cosa vuol dire le persone che hanno funzionato meglio e antenati quando muoiono vengono divinizati e si raccontano storie su di loro attraverso queste storie condivise si creano dei miti il mito crea un'identità della tribù e la tribù si identifica con i miti che sono la verità che trasgredisce al mito tabù per gris al tabù è fuori dalla tribù quindi non esiste perché esiste solo in quanto membro della tribù questo è successo per millenni ma ci sono dei resti ancora oggi pensiamo ai tifosi del calcio agli huligan del calcio pensiamo all'isis pensiamo anche ai partiti politici se volete ci sono molti resti di pensiero mitologico il clan oppure prima gli italiani e pensiero mitologico ci sono ancora molti residui pensiero mitologico nostra società l'evoluzione è il famoso pensiero razionale la nascita della scienza l'illuminismo dal seicento in poi sapete una delle frasi che venivano citate no more myth mai più mito è stata una delle parole d'ordine dell'illuminismo la ragione per andare oltre la falsità del mito quindi la nascita della ragione è coinciso con la della scienza e dell'età moderna che ha avuto così tanto successo e sappiamo tutti dove siamo arrivati dai tempi di galileo di newton e di descart fino ad oggi è stata straordinaria ma che cosa ha fatto la ragione qual è l'errore della ragione inizialmente famoso cartesio hanno scelto di applicare il metodo della ragione alla materia perché era complesso occuparsi dello spirito della coscienza hanno messo da parte quindi per la prima volta nell'umanità quella che viene chiamata la grande catena dell'essere costituita da da fisio bios e nous quindi materia vita e coscienza è stata separata la ragione si occupa del bio della del fisio scusate è ottenuto straordinari successi tanto che cos'è successo dopo è stato applicato il modello scientifico misurazione ripetibilità verifica analisi al bios alla vita peccato che il fisio decade e il bios evolve va nelle direzioni opposte quindi se tu vuoi utilizzare il metodo scientifico classico della ragione al bios devi ridurre il bios a materia e quello che fa la nostra scienza la nostra medicina a successi straordinari laddove può ridurre il bios a materia e laddove può trascurare la coscienza questo è perché io sono così accanico contro il metodo scientifico attuale razionale perché una cosa che funziona se diventa egemone e blocca tutto il resto anche se funziona diventa nocivo se io mangio due chili di pasta asciutta al giorno è nocivo anche se la pasta asciutta è buona perché petodo scientifico razionale non è in grado di cogliere il nose deve lasciarlo fuori tant'è che il nose o psiche è diventato mente è stato messo nel cervello ma questa operazione è un'operazione sciagurata augurata la psiche è l'essenza dell'essere umano e la metti nel cervello e credi che credere che sia il cervello che produce la coscienza a mio modesto parere di tanti altri è come credere che nella tema il buongiorno sia nella televisione e che se spegnete visione ma il buongiorno non c'è più vabbè mi sono lasciato andare pensiero razionale dovremmo il passo successivo che dovremmo fare con l'umanità è dal pensiero razionale ai pensieri sovra razionali che adesso non mi sto tanto a sediare ma sono di tre livelli le tradizioni parlano di psichico causale non duale come tre livelli sovra razionali di pensiero che sono i prossimi stadi dell'umanità dove noi potremmo arrivare dove alcuni i vari saggi vari mistici il cristo cosa ci dice cristo ci indica il cuore ci dice regno dei cieli dentro di te io sono la via la verità e la vita che è questo che la via la verità e la vita e ti indica il cuore se noi lo trasportiamo un'ottica psicologica lo chiamiamo se ecco che il cristo interiore il nostro sente l'interiore ci dice vieni lascia tutte seguimi lascia tutte seguimi vieni io sono la via la verità e la vita vieni oltre e quindi gli altri livelli sono i livelli sovra razionali intuitivi unitivi ai quali attingiamo attraverso la consapevolezza e per farla semplice cosa sarebbe questa consapevolezza qual è la differenza tra coscienza e consapevolezza tant'è che non lo sappiamo neanche in genere non ci viene richiesto in nessuno studio filosofico psicologico la differenza tra coscienza e consapevolezza gli indiani hanno 40 termini per definire la coscienza noi ne abbiamo uno coscienza è io sono cosciente di qualche cosa la consapevolezza io sono coscienza della coscienza cioè io mi osservo osservare io mi osservo ascoltare quello che sto dicendo io mi accorgo che non sono quello che sto dicendo perché mi posso vedere io non sono la paura che sento perché posso vederla pensiamo quanti no la paura siamo guidati dalla paura o dal bisogno dal desiderio ma chi ci insegna forse le meditazioni le varie tradizioni spirituali ma chi ci insegna nel mondo scientifico guarda che tu puoi osservarti vuoi osservare la tua paura e accorgiti che tu non sei la tua paura questo è un evidenza evidente base basato sull'evidenza se io mi osservo mi accorgo che io non sono la mia paura ma la paura mi attraversa capiamo com'è diverso affrontare la paura se io la guardo da questo sguardo sovra razionale che mi fa accorgere che io non sono la paura ecco insomma sono un po queste le cose che cerca di fare le che vedo una mannalzata del la samara ciao a tutti ciao a tutti ciao pier ciao carlo volevo fare questa questa domanda hai parlato di questo di questo diciamo cambio di paradigma che in tanti nel mondo della scienza se ne parla anche nelle università se ne parla tanto no di questo cambio paradigma dal mondo razionale a il mondo a questo pensiero sovra razionale come come facciamo a far capire a diciamo il pubblico la massa che questo cambiamento è già in atto è già anche all'interno della scienza come come si fa a far capire che questi discorsi sono discorsi che sono già stati affrontati quindi a far capire al grande pubblico che la scienza ha già cambiato di paradigma questo lo chiedo perché mi sembra mi sembra ovvio che diciamo per l'opinione pubblica siamo ancora al metodo scientifico diciamo materialista come facciamo a diffondere questo questo messaggio a fare in modo che la gente lo capisca grazie eh questa è una domanda molto seria e significativa però io credo che lo stiamo già facendo lo stai già facendo lo stiamo già facendo lo stiamo facendo anche anche oggi lo stiamo facendo mi vengono in mente mi viene in mente Galileo cioè questi qui l'hanno l'hanno costretto da biurare e non hanno guardato nel telescopio come facciamo a fargli guardare nel telescopio come sai nella bte o comunque cerchiamo anche di avere delle delle ricettine anche molto semplici gli otto pilastri della bte ti dicono osservare invece di giudicare prova ad osservare i tuoi giudizi oppure restare invece di andare via prova a restare ed accorgiti che nella tua vita non fai altro che andare via ogni volta che tu ti chiedi un perché e rispondi a un perché sport preferito mi sembra stai andando via perché perché sono una giustificazione un pretesto una razionalizzazione stai e guarda oppure sentire come appunto invece di chiederti perché prova a fermarti e a ascoltare io dico sempre che lo sguardo traspersonale incomincia un minuto dopo che tu stai con gli occhi chiusi in silenzio quante persone conosciamo che stanno un minuto d'occhi chiusi in silenzio perché lì incomincia un altro mondo certo lì dentro ci sono anche i fantasmi la prima cosa che incontriamo quando stiamo in silenzio da chi chiusi non preoccupatevi non mi chiedo di farlo però è incontriamo i nostri fantasmi i pensieri i giudizi quello che dobbiamo fare dopo quello che abbiamo fatto prima cosa penserà quello lì quindi se una persona non parte per il viaggio non è disposto a partire per il viaggio di riconoscere i tuoi fantasmi interiori quando ti fermi e stai in silenzio non arrivi a vedere il famoso paradigma quell'altro quello emergente che ti fa vedere le cose oltre le parti per cui essere sensibili riconoscere chi sta alzando la manina chi ha esprime l'esigenza e accompagnarli nel viaggio di ascolto di osservazione di stare al cospetto dei propri fantasmi di riconoscere la loro illusorietà e invece purtroppo purtroppo gli stiamo rinforzando affrontare un problema affrontare la paura senza coglierne la vera natura vuol dire rinforzarla cercare di risolvere un problema senza vedere da dove nasce e da dove nasce non vuol dire perché non è la causa sapete perché non funziona questa storia di causa effetto lineare perché l'essere umano è un sistema complesso che funziona in modo interconnesso sinergico e circolare l'ecosistema è un sistema complesso siamo immersi in un sistema complesso non funziona causa effetto non funziona a meno che è ovvio che se una persona ha sviluppato una patologia grave nella materia la causa effetto ti guarisce guarisce ti toglie la malattia ma qual è tutt'altro da un processo di realizzazione del sé evolutivo è tutt'altro per cui come dicevamo dato che funziona una certa scienza una certa medicina un certo sguardo sulle cose funziona per risolvere problemi materiali lo applichiamo anche i problemi dell'esistenza della vita sbagliando quindi andrea facciamo quello che stiamo facendo siamo attenti a chi alza la manina e dare una risposta io tendo a credere che non dobbiamo dare risposte se non ci sono domande però appena c'è una domanda dargli la nostra risposta ecco è pronto chi può fare un'altra domanda in questo momento magari alberto no più che domande io ringrazio il professore confesso di non avere mai approfondito le tematiche però al tempo stesso di esservi sentito coinvolto di aver seguito senza particolari diciamo difficoltà e questo grazie all'esposizione oltre che piacevole interessante chiara ecco quindi ringrazio e se tu carlo puoi proseguire con questa formula diciamo dell'intervista se ritieni che che stimola vedo il dibattito e se ci regala ancora qualche minuto del suo tempo professore l'attuada siamo ben contenti di seguirlo ancora chi vuole dire qualcosa magari giovanna che sei gradita ospite io vi saluto tutti vi ringrazio tantissimo e soprattutto ringrazio il professore al quale do subito del tu quante riflessioni quanti pensieri quante quante emozioni escono da questo discorso di oggi soprattutto ci segnala un pochino di più ad ascoltare ascoltare noi ascoltare gli altri questo mi fa molto piacere perché credo che ne abbiamo davvero bisogno perciò vi ringrazio per essere con voi e grazie per questa serata forse un po magica per me grazie a te giovanna grazie giovanna di questa di questo endorsement chiunque voglia parlare buonasera a tutti buonasera ciao grazie anche la parte mia e sì una domanda ce l'ho hai parlato hai citato l'ecosistema e quale dovrebbe essere il ruolo dell'uomo nell'ecosistema dicevo non volevo mettere troppo sul filosofico ma il primo errore epistemologico della nostra umanità e dicevamo la separazione la separazione tra interno ed esterno a microcosmo il macrocosmo tra il nostro sistema e il sistema fuori di noi questa separazione è ovvio che come dire io non sono quella pianta là fuori ma siamo immersi nell'ecosistema noi siamo l'ecosistema questa separazione è una separazione percettiva non è una separazione essenziale tutto è un flusso interconnesso di eventi ce lo dice la fisica quantistica ce lo dicevano gli sciamani 40 mila anni fa o ce lo dicono le tradizioni spirituali la coscienza tutte coscienza suprema oppure dio è amore è tutto quindi questa separazione è illusoria se io faccio bene io posso cosa posso fare io posso rispettare il mio se famoso come dicevamo prima io posso occuparmi di riconoscere qual è la vera natura del mio essere e rispettarlo quel famoso seme che c'è dentro di me seguirlo questo fa sì che io agisca in modo armonico produca armonia benessere questo riverbera e risuona nell'ambiente se io sono in contatto con me stesso difficilmente facendo un fuoco l'erba secca inquino oggetto la plastica nei mari e così via e se io non lo sono anche se mi sforzo non ci riesco quindi ancora una volta partire da dentro partire dall'interno rispettare quelle leggi e dato che esistono appunto metodologie la bt non è l'unico ovviamente ma esistono delle metodologie che cercano di essere in armonia con il dialogo tutto è un dialogo partecipativo tra me e l'ambiente noi abbiamo un modello nella bt e che considera il microcosmo il mesocosmo e il macrocosmo cioè l'ecosistema è un concetto filosofico perché noi facciamo esperienza non di tutto l'ecosistema ma da una piccola parte del cosiddetto mesocosmo il termine lo prendo da raymond panica il mesocosmo è quella porzione di ambiente che noi riusciamo a contattare di volta in volta quindi se io sono in armonia col mio mesocosmo in questo caso con te intorno anche mi ascolti ti rispetto di ascolto il dialogo questo crea una condizione armonica per la quale di conseguenza l'ambiente intorno a me ne benefica perché poi i miei atti saranno atti saranno l'effetto collaterale di questa armonia e quindi rispetteremo l'ambiente di conseguenza ciao allora io sono un po nuovo di questo di questa disciplina di questo approccio nel senso nella fatta conoscere Beatrice ma non ne sapevo nulla però ho praticato molta e ho fatto anche la terapia con la bioenergetica e io ti faccio una domanda in base a questo quale qual è la miglioria in questo senso di questa nuova pratica e quali sono le cose simili nel senso bioenergetico comunque si occupa di collegare la mente il cuore di sciogliere i blocchi traumatici attraverso il corpo e di portare la mente al corpo e insomma via dicendo cosa che tu sai benissimo quali sono le differenze quali sono le cose simili qual è l'aspetto in cui sei andato oltre alla bioenergetica ecco nelle parole c'è già tutto come vedi io in realtà come ho detto prima nei primi fine anni settanta io ho fatto una formazione in bioenergetica e ero abbastanza affascinato della bioenergetica della rai fino a che non sono in brasilia dove ho conosciuto il trans quindi bio trans energetica aggiunge questo trans e trans che cos'è dicevamo prima trans è in realtà tra me e te in questo momento non c'è una relazione non è che siamo io e te ma siamo io e te e il campo che c'entrano a noi questo campo è fatto di tante cose è fatto dal tuo sguardo e dal mio sguardo è fatto dalla tua disponibilità ad ascoltarmi è fatto dalla predisposizione della sintonia quindi l'esperienza umana è sempre un'esperienza ternale è fatta da me e te è un campo più vasto allora e io in energetica mi occupo dei decorati del tramite la cari di connettere mente con corpo è tutto perfetto e va benissimo abiti e trascende include questa azione trascende include vuol dire rispetto a tutto quello che questo ma fa qualche cosa di più perché trice guarda che se tu espandi la tua coscienza ti accorgi che sei già uno allora attraverso uno sguardo unitario le cose si mettono insieme cioè lavora con gli archetipi riconosce che oltre al mondo dei fatti dei problemi delle corazze in questo caso c'è il mondo degli archetipi comprendere il concetto di archetipo attraverso le è completo attraverso l'esperienza se io per esempio io non vedo in te se tu hai per esempio un blocco qua non c'è solo un blocco a livello appunto del del cuore quindi un carattere psicopatico narcisistico rigido ma io vedo un guerriero in viaggio e io lavoro col tuo guerriero in viaggio il guerriero nel suo viaggio evolutivo abbiamo visto prima le sette necessariamente arriva se io lo accompagno a superare la guerra e diventa il guerriero di luce il viaggio del guerriero se io riesco ad attingere in termini interiori in termini unitari in termini di immagine in termini di emozione sensazione al guerriero che c'è in me questo compie il lavoro per me di graduale sognimento delle quali possiamo dire che siamo in un momento in cui l'essere umano sta evolvendo ma utilizzando anche sistemi e dottrine molto molto più antiche di quello che pensiamo perché quello che alcune parole che ho usato fanno riferimento ad esempio alla dottrina remetica piuttosto che trovo che siamo in una fase di evoluzione e questo molte persone lo percepiscono cosa ne pensi sì sì assolutamente io sono affascinata c'è la bio trans energetica sta all'interno della visione transpersonale della psicologia transpersonale che è un grande cappello e io sono affascinato della visione transpersonale a mio avviso è il futuro come dico appunto nel libro di psicoterapia the future perché trascende include cioè recupera l'antica tradizione passa attraverso tutto il dimensione della ragione e accede a una dimensione sovra razionale nella quale le esperienze delle tradizioni antiche prima tu ho accenato al discorso degli stati di pensiero non accede alle tradizioni antiche attraverso un pensiero mitologico per esempio dio sede alla destra del padre è un pensiero mitologico nella bibbia nelle scritture sono mitologiche ma lo fa con un pensiero sovra razionale che rispetto al pensiero scientifico e lo supera con uno sguardo più ampio interconnesso che mette insieme le antiche tradizioni con tutto il pensiero scientifico e con questo pensiero in arrivo sovra razionale che integra tutto questo quindi secondo me siamo alle soglie di questa trasformazione magari ci vorranno 100 anni 200 anni non è che noi lo viviamo come qualcosa che non succede mai però chissà quanto tempo ci vorrà ancora ma indigliamente siamo su questo sogno si si è adatto bisogna portare pazienza bisogna bisogna dare il controllo perché non con la situazione di questi ultimi due anni bisogna portare pazienza e dare il proprio contributo grazie per lui ci ha dato tanti stimoli di pensiero tante spunti vogliamo sapere quando usciranno i tuoi libri e vogliamo magari anche sapere quali sono i libri che sono già interessanti che io li vorrei poi far sapere tanti dopo ci sentiamo sono tanti però si lo so sono tanti ti ringraziamo molto dalla valle speriamo che potremo poi fare un incontro magari per semplificare un po più giù una zona più giù che così sarai più facilitato in seguito così potremo fare una un'altra bicchiere insieme certo mi ha fatto piacere che ringrazio ringrazio tutti voi della pazienza poi tutti ci ci sentiamo no ma è stato molto bene è stato un piacere ciao a dire grazie grazie per lui grazie disponibilità grazie adesso è stato noi quindi speriamo di avere anche gradito ospite gli spunti che ci hai dato questa sera sono sicuro che possono suscitare diciamo un approfondimento esamina ben più ampi quanto muore seppure estremamente piacevole ha suscitato grazie mille grazie a tutti